Molte volte Mara viene accusata perché qualcuno dice che non è lei personalmente a gestire su Instagram e questa è la sua risposta. Allora ragazzi, siccome qualcuno pensa che non sono io a gestire il mio Instagram, perché c'ho solo quello, il resto non ce l'ho, sono qui dall'avvocato patriarca, ecco fate vedere, ecco, con Fabio, Miroglio, Luisa Viola, pronti a rinnovare il nostro contratto. Ciao ciao Luisa Viola, ciao Fabio, ciao avvocato, ciao! La risposta di Mara non lascia dubbi, è proprio lei che gestisce il suo Instagram, non poteva essere diversamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.